ciao mondo questo non è solo un bellissimo paese messicano con una bella chiesa una bella piazza qui sono a tequila vamos a viverlo ok qui si inizia a degustare tequila ci sono delle differenze c'è la tequila bianca la reposado e la neco e lui ci spiega la differenza non è come la tequila italiana ragazzi la reposado è molto molto buona salute veramente buona ma ora vi porto a scoprire come viene fatta la tequila innanzitutto la pianta l'agave azzurra la differenza di un mezcal e di un tequila è che il mezcal si può essere con qualchina delle diverse specie che esistono il tequila solamente con una questa è la varietà d'azul tequilana weber quindi queste sono le radici di agave da cui viene ricavata la tequila che inizialmente viene cotta in questi corpi l'odore qua è molto dolce si sente veramente come se fosse quasi miele questo è l'agave quando viene cotto dai forni e si può fezzare il succo è molto dolce ma molto molto buono in questa parte viene effettuato il processo di fermentazione che dura fino a 72 ore qui praticamente il succo di agave viene sostanzialmente bollito e qui infine la cantina dove viene lasciata depositare la tequila in attesa di essere poi imbottigliata e ora è giunto il momento di assaggiare la tequila ave maria ave maria io lo chiedi io lo chiedi io lo chiedi padre nostro padre nostro che buono sta questo che buono che sta questo bendito licor bendito licor maldito tormento maldito tormento che haces afuera che haces afuera vamos para dentro para dentro estiro la mano estiro la mano encojo il codo mi ha saluto il todo 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 me lo cingo il todo mi ha saluto salut salut questa tequila è molto buona ragazzi è decisamente un'altra cosa rispetto a quella che si bine in italia Grazie a tutti